Avevo detto che avrei aspettato l'annuncio ufficiale in caso fosse successo E' arrivata l'annuncio ufficiale, è arrivata l'immagine su Instagram E' arrivato tutto quello che doveva arrivare E' arrivato Castrovilli! E' arrivato Castrovilli Io... ragazzi Che vi devo dire? Che vi devo dire? Uno tante volte pensa che e invece poi Tu pensi che e invece poi Io l'avevo detto l'anno scorso, qualche mese fa poi Che in realtà non era quella la stagione della schiaglia Ma sarebbe stata la prossima Che quella dello scorso anno era un teaser trailer E purtroppo l'avevo detto Immaginandomi uno scenario impegnativo e problematico Ma non così tanto! Ma non così tanto! Perché tra infortuni e grandi acquisti Devo dire che la mia preoccupazione sta crescendo esponenzialmente ogni minuto che passa Manco ogni ora Ogni minuto che passa io penso, guardo, rifletto, me agito E quindi sono giorni un po' così Per me, come per tutti i lasiali, credo Perché il buon Gaetano Castrovilli A cui io auguro tutto il bene del mondo E gli auguro di riprendersi nazionale Futuro E tutto ciò che la vita ha di bello da offrire E lo dico senza ironia Senza la minima ironia, che sia chiaro Per il suo bene e per il nostro E' un acquisto che mi suscita qualche perplessità Mi è concesso dirlo Mi è concesso dirlo Mi suscita qualche perplessità Perché è un giocatore che aveva un luminoso futuro dinanzi a sé Prima, prima Di farsi Diversi infortuni Abbassarsi impegnativi Che ne hanno in qualche modo Che ne hanno in qualche modo Limitato la crescita Castrovilli è un investimento Che ha il sapore della scommessa Perché è un giocatore che tu devi recuperare Da un punto di vista di continuità Dopo anni in cui continuità Non ne ha avuta Quindi Io non discuto le qualità del giocatore Perché Castrovilli era un giocatore sicuramente Che aveva fatto vedere buonissime cose Quello che discuto è andare a prendere un giocatore Che non sembrerebbe per ora Essere lo specchio della solidità fisica Io mi auguro che lui possa avere dieci anni Senza manco un'unghia incarnita Da oggi in poi Perché chiaramente Se vuoi recuperare tutto Così devi stare Però ecco Io adesso voglio andare al di là degli auguri A Castrovilli E a noi Laziali Per interrogarmi sulle scelte societarie Che hanno portato a Castrovilli Cioè io mi ritrovo Io mi ritrovo Io e tutti i Laziali Ci ritroviamo Da una settimana in cui Siamo stati in qualche modo Indotti a pensare Che Greenwood fosse vicino E io ve lo sapete Che non sarebbe mai arrivato A una settimana successiva In cui Welcome Castrovilli E porca miseria No Che ripeto Io non ci ho mai creduto a Greenwood Però nel momento in cui ti dicono Stiamo trattando Greenwood E nel momento in cui ti dicono No ma adesso Rivelamo dieci volte più forte di Greenwood Chi è? Castrovilli? E' vero Non hanno specificato a cosa Sia più forte di Greenwood Dieci volte Quindi effettivamente Vostro onore Effettivamente sì Non hanno specificato in cosa E dunque resta tutto aperto A 3-7 A Shanghai Alla Play Non lo so Noi non lo sappiamo Forse lo scopriremo Però ecco Diciamo che qualora fosse Una questione tecnica Io non lo so Se il castrovilli sia dieci volte più forte di Greenwood Non lo so Ho i miei dubbi Ho i miei dubbi Però ecco Io ricordo che Qualche settimana fa Si sono respinte con forza Le accuse di ridimensionamento Allora io vorrei Fare proprio no Esce Kamada Arriva a Castrovilli Ridimensionamento? Rispondete voi Esce Luis Alberto Arriva a Dele Baciru Ridimensionamento? Rispondete voi Io pongo Pongo Quesiti Pongo Fatti Esce Immobile Entra Noslin Ridimensionamento? Lascio a voi la parola Esce Felipe Anderson Arriva a Chonà Ridimensionamento? Fate voi Cioè Diciamo che è tutta gente di belle speranze Che gli auguriamo una carriera luminosa E superiore a quella di coloro che li hanno preceduti Ma 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 Ognuno poi continui Dopo il ma Continui e continui con quello che più lo aggrada Ma Ma Ecco Io Boh Esce Sarri Esce Tudor Arriva a Baroni Ridimensionamento? Fate voi Fate voi Io Non lo so Ragazzi So C'ho la gamba che non si ferma Da 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 quando ho visto Castelwell con Castelovilli Cioè Io 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 dico Ripeto Io non me Io non me Io non mi riesco a dare pace Perché io capisco Che 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 non se debba fare il mercato con i grandi nomi Ok Lo capisco Lo capisco Il mercato con i grandi nomi è FIFA Ok Non è Non Non è il mondo vero Però Però C'è Però Un minimo Un minimo Di Di emozione Un minimo di No Sul mercato Ci sarebbero Una lunga schiera Di ottimi svincolati Che tu potresti andare a provare A prendere E prima Che ce vai Non ce vai Forse perché sai che tanto Non te ce vengono Se non Se non appunto Quelli che si devono Rilanciare Per cui è È un Dou des No Pure Castrovilli Castrovilli tece viene A prendere Da quanto leggevo Due milioncini Hai capito Caetano Due milioncini Perché Lui Ha bisogno Di una squadra Per rilanciarsi La Lazio Ha bisogno Ha bisogno Di qualcuno Che 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 In questo momento Sia Partecipe Sia partecipe Anche perché Da quello che mi raccontano Amici Contatti Eccetera Dal ritiro Non arriverebbero Segnali Particolamente Incoraggianti Per Per Dele Basciro In quel ruolo Quindi Diciamo che Sembrerebbe essere Importante Avere anche Un'alternativa Con cui Poterlo Alternare Però Ripeto Tu vai A costruire Una squadra Su dei nomi Che sono Tutti giovani Di belle speranze E Giocatori Desiderosi Di rilanciarsi Perché Non hanno Un'inerzia In questo momento No E Poi Vedi In giro Invece Cioè A me Che mese venga Di Ah Abbiamo speso Più da Juventus Che poi Anche lì Sarebbe D'andare A fare I conti Cosa Che io Non Ho Fatto E non Faccio Perché Non Voglio Soffrire In questo Momento Però No Come dicevo L'altro giorno A Juve ha preso Turam Di Gregorio È un pochino Il Milan Ha preso Morata Oggi Secondo me Un ottimo Acquisto Parlando anche Di quello Al volo Morata Secondo me Un ottimo Acquisto Addirittura Se parla De Morata Come attaccante Di riserva Alvaro Ma che Ci sarà Da fa Potevi venire No Perché tanto Non ti pagavano E quindi Io Morata Lo sarei andato a prendere Me lo sarei caricato Sulle spalle L'avrei E l'avrei portato A piedi A Roma Io Morata Io A costo di morirci Con Morata Sulle spalle Metterlo trascino Faticosamente Oltre i confini Eh Io l'avrei portato In ginocchio Morata Roma In ginocchio I grandi nomi Eh Sì Sì Nel calcio Servono anche I grandi nomi Sì Sì Quindi Io Oggi Non mi riesco A fomentare Perché è arrivato Castrovilli Perché l'altro giorno È arrivato Dele Basciro Perché è arrivato Davares Che poi È arrivato Davares Gran giocatore E sono abbassati 23 minuti Per capire Perché l'ha pagato Così poco Eh L'anno scorso Ha fatto 8 partite Quante ne ha fatte 8 6 8 E quest'anno Ha fatto 23 minuti E è già È già andato Il flessore E quindi Arrivata Arrivata La cosa Eh Si è fatto Gila Si è spaccato Il dito Quell'altro Si è fatto male Infortuni De qua Infortuni De là Sta iniziata Una stagione Meravigliosa Poi dici Sei pessimista Regà Ma Cioè Non so io Che so pessimista E che Come si fa Non essere pessimisti Io anzi Insegnatemi La vita Spiegatemi Come si fa Non essere pessimisti E io vi seguo Però Cioè Anche perché poi Da quanto mi pare Di Annusare Nell'aria Eh Che uno annusa L'aria Con Castrovilli Mercato chiuso Beh Però Colpa effetto Per chiudere Pam pam Proprio Devo dire Devo dire Eh Wow Adesso si Adesso Adesso si Adesso Che ripeto Non è Niente Colto Castrovilli Niente Ragazzi Niente Io ripeto Gli auguro Senza la minima ironia Una stagione Straordinaria Per il nostro Bene Anche Però Posso essere Preoccupato Posso Grazie Perché Perché Sì ragazzi Perché Sì Non Serve Serve Qualcuno Io Sono una persona Peraltro Che Seguendo il calcio Da una vita Apprezzerebbe Anche L'idea Del Benissimo Linea Giovani Belle promesse Quello che te pare Qualcuno un po' Più affermato Con una certa Esperienza Che certe partite Cioè Noi abbiamo Una squadra In cui Tanti elementi Especialmente I nuovi L'Europa Non l'hanno mai Neanche vissuta Quindi Voglio dire Con l'allenatore Che l'Europa Non l'ha mai giocata Cioè Non è ridimensionamento Va bene Come lo chiamiamo Che nome gli diamo A sto ragazzino Ecco Quello è il discorso Come lo vogliamo chiamare Come lo chiamiamo Non è ridimensionamento Come si chiama Cioè Non Io Veramente Faccio fatica A capire A capire Quale sia il progetto In questo momento Cioè tu hai perso Tutta una serie di Che poi Tra l'altro Domanda Domanda Cioè Tudor è andato via Da quello che abbiamo Colto Dalle ricostruzioni Varie Perché la Lazio Non era disposta A vendere Gran parte Del blocco Di dolare E quindi Tudor Non avendo Cioè Non essendo d'accordo Con la decisione Di conservare Gran parte Dei pezzi Della rosa Si sarebbe licenziato Con quel Con quella motivazione Da quello che abbiamo Colt Sembrerebbe All'epoca No Va via Tudor E vendi tutti Allora Che Ma Io Io Faccio una fatica A comprendere La coerenza Di quello che sta accadendo Cioè Nulla Sembra Legarsi Con ciò Che è accaduto Prima Hai comunque Stavolto la rosa Io Cioè noi adesso giocheremo Con Praticamente Mezza squadra nuova E ripeto Adesso Sembrerebbe pure Che vogliano vendere Isaksen Leggevo stamattina Cioè Che è l'unico Che te devi tenere Perché Perché è un investimento Grosso Che Deve avere il tempo Di svilupparsi Che stanchezza Stiamo Stiamo a 19 luglio Io già sono Sfinito Sfinito Adesso Preparatevi Mercato chiuso Finito Sicuro Sicuro ragazzi Sicuro Io Non lo so ragazzi Non lo so Io spero Spero che questa Questo nostro mare di angoscia Venga spazzato via Da una stagione straordinaria Sorprendente Che possa chiedere la bocca A tutti Me in primis Io voglio Voglio passare l'anno Voglio passare l'anno A essere preso in giro Per quello che ho detto Durante quest'estate Ah tu dicevi Che baroni E invece hai visto Ha fatto la striscia positiva Più lunga Dalla zona del calcio italiano Hai Stato Hai Ripproccupato per nos L'hai visto Che ha fatto 47 gol In 12 partite Sì Venite mappi a per culo Se succede Vi prego Io spero Spero che accada Tutto quello Che ho appena detto Affinché io possa essere Oggetto Di derisione continua Per le mie sensazioni Prestagionali Sì Voglio 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 Che Dele Basciru Faccia Faccia Record Di assist Che Castrovilli Faccia i record Di minuti consecutivi Deve accadere Tutto quello Che invece Il contrario Di quello Che temiamo Tavares Che si fa tutto Il campionato Filato Gila Che ritorna Incredibilmente Dopo una settimana Cioè O è così O è così O noi soffriamo Tutto l'anno Quindi io spero Spero che sia così Però Però Boh Però ecco Oggi 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 Stavo sentendo Anche la cosa Di l'Oriente Che L'Oriente A 15 milioni Ma Greenwood A 30 No L'Oriente A 15 Però La Lazio Sembrerebbe Aver offerto 10 Che tanto Non te sbagli Cioè È una cosa Tu ci puoi Scommettere Tutti i tuoi Averi Che se il giocatore Ha un prezzo La Lazio Offrirà Il 30% In meno Ormai È una regola Non scritta Sulla base Di ricostruzioni Giornalistiche Poi Ripeto Sembrerebbe Tutto quello Che vi racconto Sembrerebbe Perché io non ho Contatti interni Mi baso su quello Che leggo Su giornali Siti Internet In televisione Però Quello che Ricorre È che la Lazio Appuntamente Offre il 30% In meno Di qualsiasi prezzo Costi 1 Te offrono 0,7 Sempre Sempre Non si schiappa Quindi Ma poi Ma l'Oriente Li varrà Ma io poi Una cosa Vorrei capire Dal Sassuolo Ce n'è uno Che va preso Che è Berardi Si è rotto Te lo tirano Dietro oggi Proprio perché è rotto Devo prendere Una persona Che Mi vado a prendere Berardi Vado a prendere Berardi Allora Se proprio Devo rischiare Berardi Oggi Ti fa 15 gol In campionato Ancora Sempre che sia Integro Che si sia Ripreso Però Vado a prendere L'Oriente A 15 milioni Per farci che C'è l'Ori Con quanti esterni Dobbiamo giocare Noi quest'anno Quanti ne devono arrivare Ancora Io posso capire Greenwood Avrebbe potuto giocare Pure come Come trequartista Per assurdo O come mezza punta Ma l'Oriente Un altro esterno Pedro Shona Isaksen Chi cazzo Nosling Che può fare L'esterno Poi Ce ne sono pure Altri che mi sono scordato In questo momento Sono talmente tanti Ce ne abbiamo Carcelieri Sana Fernandez Io promuoverei Sana Fernandez Sputtosto che Più all'Oriente A 15 milioni Ce l'ho Ce l'ho In casa Non è Non è reato Promuove uno Dalla primavera Ogni tanto Non è reato Si può fare Cioè Non lo so Stacco Sto Anna a fuoco Per quanto caldo fa E mi iniziano a girare Quindi Va bene così Va bene Per essere A parlare pure De Berardi Vuol dire proprio Che il caldo Si sta Facendo forte Dentro me Ragazzi Questo è Questo è Sempre Forza Lazio Speriamo bene Ci vediamo Tanto che Ve pensate Che non ci saranno Grandi interviste Promesse Programmi Pensieri Ci avremo modo Ciao Ciao Ciao